Andrà in scena mercoledì 26 ottobre alle 18 nella casa circondariale di Capanne e giovedì 27 ottobre alle 19 al Teatro Murlachi di Perugia lo spettacolo Balera di Vittoria Corallo, nato nell'ambito del progetto Peraspera ad Astra, riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza. Promosso da ACRI, l'Associazione Nazionale delle Fondazioni di Origine Bancaria, realizzato e unile sostegno di Fondazione Perugia e prodotto dal Teatro Stabile dell'Umbria, Balera è il terzo capitolo di una ricerca portata avanti insieme ai detenuti che via via hanno partecipato alle precedenti tre edizioni di Peraspera ad Astra all'interno della casa circondariale di Capanne. In tutta Italia il progetto ha coinvolto 11 fondazioni, 14 carceri e oltre 420 detenuti, di cui 30 a Perugia. È uno spettacolo difficile da raccontare perché è una ricerca che sto facendo io insieme a loro perché intanto ci tengo tantissimo che non si rimanga nei contenuti del carcere e quindi della loro vita nel loro presente, ma che ci si estenda a delle questioni che riguardano tutte le persone, tutti gli uomini e tutte le donne in questo nostro tempo. Con Balera per la prima volta i detenuti si esibiranno in teatro. Nelle precedenti edizioni infatti la pandemia aveva imposto delle limitazioni ma non aveva fermato il progetto che si era concretizzato tra le altre cose. Nelle cortometraggio Voliera, sempre con la regia di Vittorio Corallo, che era stato selezionato nella sezione Voci dal carcere dal Mad Film Festival di Roma, festival della capitale dedicato alla cinematografia del Mediterraneo. Entrambi gli spettacoli sono gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza. Per l'evento di mercoledì 26 alla Casa Circondariale di Capanne è possibile inviare una e-mail all'indirizzo promozione-chioccerateatrostabile.umbria.it. Per quello di giovedì 27 ottobre al Teatro Morlachi di Perugia è invece possibile registrarsi sul sito Eventbrite.